Il congresso dell'AISD, l'Associazione Italiana Studio Dolore, arriva alla 46esima edizione e quest'anno si svolge a Bari. Tantissimi sono i temi affrontati di cui parliamo con il professor Gabriele Finco, presidente di AISD. Allora professore, come è andata questa edizione? Ci può riassumere anche i temi più importanti che sono stati trattati? Allora il congresso è stato un grande successo, possiamo dire che è stato un grande successo in quanto che tutti i partecipanti o almeno tutti quelli che hanno espresso un parere sono stati molto soddisfatti dal congresso e anche i sponsor hanno definito il congresso molto interessante e partecipato. Infatti abbiamo avuto circa 560-570 iscritti, che non è poco per un congresso sul dolore, per un congresso in una sede un po' disagiata diciamo così perché distante dalle grandi metropoli che è Bari. Tuttavia la sede congressuale è stata ottimale e l'organizzazione è stata pure ottimale, per cui siamo contenti. I temi trattati sono quelli che sono oggi i principali temi presenti nel mondo della pratica clinica e nel mondo dell'accademia, cioè della ricerca. E infatti abbiamo trattato tutto il tema della diagnosi del dolore, in particolar modo del dolore neuropatico che rappresenta ancora un campo ostile per molti colleghi, specialmente i giovani, ed è difficile anche avere una uniformità diagnostica in quanto non ci sono criteri accettati da tutti e perpetrati da tutti. Poi chiaramente il trattamento del dolore ha rivestito un'altra grande importanza e in questo abbiamo affrontato tutte le diverse possibilità di trattamento, dal trattamento farmacologico di base, al trattamento farmacologico alternativo, al trattamento con cannabinoidi, al trattamento con nutraceutici e integratori alimentari, li abbiamo affrontati tutti. Per cui è stato un congresso, ah poi mi dimenticavo, e tutte le terapie invasive, infatti al sabato c'è stata un'intera giornata sulle metodiche neuroinvasive, neuromodulative e neurolesive. E quindi abbiamo coperto tutti i temi. Speriamo che l'anno prossimo sia bello come quest'anno, che abbiamo la possibilità di avere tanti ospiti e soprattutto tanti giovani. Ecco, 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 dimenticavo. La cosa più bella è quella dei giovani. Noi abbiamo dedicato largo spazio alla formazione di base dei giovani e al sabato, ad esempio, tutta la mattinata è stata dedicata all'approfondimento dei temi diagnostici e anche terapeutici, ma soprattutto diagnostici, perché il giovane deve imparare questo, soprattutto all'inizio, per non fare errori poi terapeutici. E abbiamo chiamato, invitato le persone, gli esperti, che più hanno esperienza anche nella divulgazione, che sanno parlare, che sanno soprattutto far passare i messaggi più chiari e più importanti per uno che deve affrontare ogni giorno la pratica clinica del dolore.